Bentornati, io sono sempre Marco Vigellini. Oggi vediamo come provare ad avviare una sessione Minecraft in modalità multigiocatore. Cosa significa avviare una partita in modalità multigiocatore? Significa permettere a tutti gli studenti di giocare contemporaneamente nello stesso mondo virtuale nella classe. Proviamo allora ad avviare questa modalità insieme. Diciamo che fondamentalmente esistono due figure quando si parla di modalità multigiocatore. La prima figura è quella che avvia il mondo. L'altra figura, e questa figura tendenzialmente coincide con quella dell'insegnante, L'altra figura coincide con chi si aggancia a questo mondo. E tendenzialmente questa figura coincide con il nostro studente. Allora, facciamo finta che io adesso sia l'insegnante Marco V che vuole avviare un mondo per poterne permetterne la partita in modalità multigiocatore. Allora, cosa devo fare? In pratica, non devo fare niente di diverso da quello fatto fino ad oggi. Dobbiamo cliccare su gioca, scegliere di avviare uno dei nostri mondi oppure, nello specifico, oggi, ne creeremo uno nuovo generato casualmente. Questo nome, il nome del mondo, è il mio mondo. Lasciamo tutte le impostazioni di default e clicchiamo gioca. Ma, prima di cliccare su gioca, vi voglio far vedere questo pulsante. Ok? Questo pulsante ha delle impostazioni che sono già preconfigurate. Ok? Io vi voglio soltanto farvele vedere e dettagliarvele. Clicco sopra e vedete, queste due opzioni sono già attive. Cosa significa? Che questo mondo che avvieremo tra breve permette una partita multigiocatore. Cioè, i giocatori si possono agganciare a questo mio mondo e cosa succede anche? Che questo mondo che stiamo avviando sarà visibile ai giocatori connessi sulla stessa rete. Cioè, questo computer, ovviamente, è in una rete, wifi oppure rete cablata, e di conseguenza, avviando questo mondo, il mondo, diciamo, sotto, diciamo, in background, sta inviando dei pacchetti a nostra insaputa dicendo, hey, cari giocatori che saldano sulla stessa rete, io sono qui. Ok? Cosa significa questo? Adesso io sto premendo il tasto ESC, ok? Il mio computer ha questo, diciamo, identificatore univoco di rete, 192.168.10.3. Queste cose, diciamo, tra virgolette, da tecnici non servono all'insegnante, è soltanto per raccontarvi il filo del discorso con una certa, diciamo, logica. Cosa significa? Che questo computer sta comunicando da tutti gli altri della sua presenza e che ha avviato un determinato mondo. Riprendo il gioco, io adesso sto in un mondo Minecraft, mi metto, sto premendo il tasto F5, F5 di nuovo, ok? Sono in un mondo Minecraft, mi sto cercando di muovere, e come vedete sono solo, ok? Se io clicco il tasto ESC, qui sulla destra non ho niente, ok? C'è soltanto un giocatore connesso, che sono io, Marco V. Riprendo il gioco. Ora, io a fianco a me, voi non lo vedete, ma ho un altro computer. Mi sto spostando sull'altro computer e mi aggancerò a questo mondo, dove sto cliccando io adesso, il mio pulsante sinistro. Farò delle cose, sicuramente molto semplici, che non vi racconterò mentre le sto facendo adesso, perché dopo metterò in pausa questo video e vi farò vedere quello che ho fatto dall'altro computer, come se fossi uno studente. Però adesso voglio rimanere in questo schermato dell'insegnante, perché io, lato studente, adesso sto cliccando su gioca. Poi sto facendo una cosa molto semplice. Ci sto cliccando sopra e tra un po' mi vedrete comparire nel mondo. Come vedete, in alto a sinistra c'è scritto Megger ci si unisce alla partita. Guardate un po' chi c'è qua. Io mi sono mosso sul computer in cui sto registrando il video. Adesso mi muovo in quello, diciamo, che ho qui di fianco. Sto cliccando il tasto sinistro di quell'altro. Ok? E come vedete, qua sono l'insegnante Marco V e qua sono lo studente Megger C. Ok? Ora io metto in pausa questa registrazione dello schermo del mio insegnante e continuo, vi farò vedere come ho agganciato lo studente Megger C. Ed eccoci magicamente sullo schermo dello studente. Ora io adesso vado a fare gli stessi passi che ho fatto pochi secondi fa. Cosa ho fatto? Avevo detto che ho cliccato su pulsante gioca e poi ho fatto una cosa che vi andrò a spiegare in questo momento. Noi solitamente quando avviamo una partita o clicchiamo su mondi già esistenti o noi creiamo uno nuovo. Ok? Ma guardate qua in alto c'è il tab amici io ci clicco sopra e vedo a disposizione un mondo giocabile. È stato avviato da Marco V infatti l'insegnante si chiama Marco V il nome del mondo è il mio mondo poi c'è la versione e mi indica anche che il mondo è agganciabile e che attualmente c'è un giocatore su 30. Io clicco su questo pulsante e mi ritrovo nello stesso mondo di prima ovviamente. Quindi è veramente semplice creare una partita multigiocatore perché colui che avvia il mondo semplicemente fa partire un mondo o casuale o di uno già costruito. Tutti gli altri troveranno il mondo avviato semplicemente nel tab cercandolo tra quelli degli amici. un'altra ed ultima cosa immaginate di avere una classe di 20 ragazzi e di voler costituire due gruppi dividete il gruppo A formato da 10 ragazzi e il gruppo B formato da altrettanti 10 ragazzi non è necessario che l'insegnante avvira partita e crei per esempio su due computer differenti avvi due mondi differenti è sufficiente dire ad uno ragazzo del gruppo A e ad un ragazzo del gruppo B di avviare il mondo che si desidera far diciamo partecipare agli altri componenti del gruppo A e agli altri componenti del gruppo B in questo modo i ragazzi vedranno per esempio Marco V il mio mondo per esempio quello del gruppo A tutti i nuovi ragazzi del gruppo A cliccheranno su questo pulsante ovviamente i ragazzi del gruppo A vedrebbero anche qui sotto la partita avviata da per esempio Benedetta V il mondo si chiamerà il mondo di Firenze ok però questo mondo a questo mondo ci si aggacceranno i componenti del gruppo di Benedetta i componenti del gruppo B cliccheranno su questo e avremo separato i ragazzi e creato dei gruppi ok quindi non è detto che l'insegnante abbia la necessità di avviare un mondo e tutta la classe si connetta a quel mondo si possono creare gruppi collaborativi gruppi da 3 gruppi da 5 gruppi da quanti ne volete voi con questo è tutto grazie a tutti 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 Grazie a tutti.